Sono Luca Davoli, direttore delle alleanze strategiche di NAMEX. NAMEX è un punto di interscambio di Roma. La nostra visione sull'evoluzione dell'internet exchange e delle politiche di peering guarda soprattutto a varie direzioni che sono la connettività verso altri paesi che si affacciano sulla Sicilia con i cavi sottomarini e quindi la nostra iniziativa di AXP Connect che a Palermo consente a questi operatori di interconnettersi con gli AS italiani, inizialmente quelli di NAMEX e di Topics e nel futuro speriamo anche di altri internet exchange italiani. Guardiamo all'evoluzione dei servizi di peering cercando di coinvolgere altri operatori che sono sul territorio attraverso i nostri servizi di aggregazione remota che consentono a gruppi di operatori di arrivare al NAMEX utilizzando delle risorse condivise per la parte di trasporto.